questo è il fungo facciamo il video e poi guarda quella lì questa qua, mi piace fare il fungo poi c'è un altro di là guardala hai visto hai visto questa il fungo oggi august 17 e ah the day is fortunate for pari funghi ayan e si bye this is the busco ayan yeah andami na namin na kuhang funghi ayan ayan guys bye bye ayan ng aking fungo ah ayan 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 ayan